Buongiorno Anabella, buongiorno telespettatori di Le Fonti TV, siamo nuovamente qui a Palazzo Mezzanotte dove è in corso la EN5G Forum targato Le Fonti. Ho qui il piacere di avere insieme a me Alex Linnek che è Country Manager Italia e Marta di China Telecom e quindi ci anticiperà un po' quelli che saranno i contenuti del suo intervento. Innanzitutto spieghiamo un po' ai nostri telespettatori quali sono i piani di sviluppo di una realtà come China Telecom per l'Italia. Noi China Telecom in Italia fuori dal lavoro tradizionale, diciamo abbiamo cognitività internazionale per tutti gli operatori più grandi europei. In Italia vorremmo lanciare un nuovo servizio, per esempio già iniziato adesso con la Smart City, stiamo già lavorando nelle regioni di Veneto e anche nel mondo di IoT, stiamo dando la scatola nera con il modo di comunicazione per i produttori di moto e auto. Per cui tutto il concetto della Smart City si può concretizzare anche della cosiddetta Internet of Things grazie a una serie di infrastrutture che la vostra realtà sta proponendo qui all'Italia. China Telecom in realtà abbiamo il risorso principale che noi abbiamo tante fibra, fibra ottica sottomarine che connettiamo quasi tutto il mondo e in particolarità abbiamo anche fibra ottica via terra, terrestre che connette verso l'Asia. Quindi questa è la nostra forza diciamo di dare le connessioni più veloce di tutte le aziende e anche soprattutto le fabbriche diciamo moderne che hanno bisogno di connettività veloce e sicuro. Dal vostro osservatorio comunque dalla Cina all'Italia, quali sono ancora gli step che l'Italia deve insomma compiere per diventare veramente una smart country, se così possiamo definirla? Secondo me ci vuole molto investimento, soprattutto noi China Telecom siamo pronti anche a investire in Italia, perché secondo me l'investimento è molto importante su infrastruttura, anche su tecnologia. Noi siamo pronti a investire in Italia, speriamo c'è anche un partner giusto che possiamo investire insieme in Italia a crescere insieme. Quindi ce l'auguriamo e insomma questi rapporti, anche perché adesso c'è anche in corso in questi giorni poi a Shanghai un importante infatti forum e anche lì i nostri politici si sono anche un po' incontrati, che cosa possiamo sperare? Cina è veramente molto aperto, secondo me spero che il governo italiano c'è un po' più fiducia reciproco con il governo cinese, così almeno quando c'è fiducia tra due nazioni possiamo veramente spingere avanti, di fare un investimento serio, di creare qualche lavoro insieme, importante insieme. Perfetto, quindi sull'onda della fiducia e anche degli scambi commerciali che stanno avvenendo in Cina e che oggi racconteremo invece sul fronte 5G, speriamo davvero che insomma si possa crescere sempre di più. Io ringrazio nuovamente Alex Lin per essere stato qui con noi, non mi resta adesso che cedere a te Annabella Lalina.